Quando ero ministro della gioventù, noi abbiamo attivato il servizio civile in Israele e secondo me è una di quelle, chiaramente non è questo il momento, però è una di quelle iniziative che possono aiutare a conoscere meglio una realtà che secondo me molto spesso è vittima di stereotipi. C'è un racconto che io vedo molto diverso dalla realtà che conosco e forse aiutare più giovani a conoscere quella realtà può aiutare a combattere anche culturalmente che poi è il tema principale, il fenomeno tragico dell'antisemitismo. Grazie, Vincenzo Miglietta a Radio Coro, il Sole 24 ore. Presidente, buongiorno, buon anno. Torno ai temi economici. Lei ad inizio della conferenza stampa di oggi ha detto che sul fronte delle risorse il Governo ha fatto e farà salti mortali nel trovare le risorse. Allora introduco il tema delle privatizzazioni. Nei documenti programmatici di bilancio leggiamo che si prevedono incassi di 20 miliardi nel triennio.